Il progetto Gamification of Entertainment 3D prevede la realizzazione di un videogioco interattivo per la formazione dei giovani su tematiche legate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguarda delle risorse del territorio. Si dimostra infatti che l'educazione attraverso videogiochi interattivi e sistemi multimediali sia molto più efficace dei giovani rispetto ad altre metodologie più tradizionali di formazione. A tal proposito riteniamo importante quindi fornire al territorio degli strumenti che possano trasmettere ai giovani che sono i futuri cittadini di domani i concetti che sono necessari e importanti e propri anche per noi ma soprattutto che devono essere propri ed importanti per i giovani, per i cittadini del futuro, cioè i giovani di adesso. L'esperienza acquisita nei progetti citati e in quelli che abbiamo in animo di fare sempre orientati all'educazione dei giovani in tematiche di sensibilità che possono essere maggiormente acquisite grazie a strumenti multimediali interattivi coinvolgenti ci ha permesso di interfacciarsi con altri enti ed importanti partner per progetti di educazione che non toccano solo i giovanissimi ma anche vanno a lavorare su un livello più elevato di individui. Per esempio per l'Università di Padova abbiamo realizzato un progetto multimediale interattivo con realtà aumentata per permettere ai futuri veterinari di operare virtualmente su animali di grandi dimensioni grazie alla tecnologia 3D. Tutti gli studenti hanno potuto fare delle operazioni simulate molto realistiche grazie all'effetto della realtà aumentata che ha permesso di trasmettere loro tutti i concetti che devono possedere per essere dei futuri buoni veterinari che devono fare delle operazioni in modo consapevole e con una certa esperienza. Sulla base di questi progetti vorremmo introdurre con la stessa tecnologia e metodologia concetti legati alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle risorse del territorio destinati appunto ai giovani che sono i cittadini di domani e che dovranno tenere molta cura rispetto alle risorse del territorio e quindi devono avere chiaramente fin da giovani chiari concetti che vanno difesi e che devono essere propri della loro formazione di futuri uomini e future donne cittadini del nostro pianeta.